dobbiamo andare praticamente voglio fare un attimo adesso per vedere il repellente se li vedono già non ce la faccio da andare fino alla fine senza repellente da vedere i repellenti e poi ci riesce a risolvere i soldi magari di darmi i soldi ok ah questo qua serve poi quello la che poi ci può dare i passaggi con la barca alla seconda palestra questo è troppo lento non voglio darti pastiglia nessuno o la licenza ok vieni che ti distrugga di mazzate vieni ovvio che non la direttore ti distrugga ti aprò in due ecco ecco chi è reputato in idro o ci non è buono non è buono non è buono ma chi è grido di lotta mi devi spiegare cosa perchè ti aumenti l'attacco quando io ti ho ormai ti ho ucciso ti voglio finire con un graffio guarda non devi avere neanche l'ornore di morire con due braccieri ha avuto a me sul regolatini idro una carriera di criminale vuol già il termine Aldo vince 220 dollari mercedevore mercedevore l'abbiamo attendita arriva il vecchietto con il suo pico wingullo ma tu che sei? sono ben alto ti ringrazio il tuo cuore sai hai bisogno di una mano non puoi stare pipica ostia boom 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 vado a portare questo pacchetto di nuovo al rumo della Devon e ci sentiamo dopo questo taglio questo interiere taglio siamo ritornati siamo nella base della Devon state chiesto di portare quel pacchetto al canzino navale ma come non c'è una sedia dove dovrei accolodare bene sono state potesse una bluruvia ah bluruvia dobbiamo andare per la seconda palestra e là credo che ci potremo pigliare un altro pokemon provate a indovinare qual è siedelo qui sotto nei commenti a proposito di qui sotto no non fate dubbi sensi su questa frase ho aperto la pagina facebook del nostro canale quindi vi lascio il link in descrizione mettete un like e lì che saluto prudente tutti scienziati qua che stanno lavorando uguali omologati andiamocene via signori se non rivederci a volte a volte anche vuoi ah aspetta fai il pokemon mi pare che puoi chiamare le persone si e quindi possiamo fare un sacco di cose poke nav sfidafonino non ho ancora usato il pokemon presidente della devil non mi solcherate ok meglio ci vediamo alto attenzione vera sei veramente tu allora dato che tu sarai ok vediamo se vuole combattere vero ok un'altra lotta a conto vero la seconda volta che non trovera vediamo se riusciamo a fare volvere il nostro snappalo con basken snappalo torcual eh ma io ci servirà un pokemon acqua ruggito devi fare la peggio morte possibile chi possiamo mettere contro lui ma di bracere lui non è molto efficace lo so questo usa maledizione siamo entrati a 5900 e poi ci uccide dai snappalo no no resisti snappalo so che non puoi che puoi non avvelenarti tutto colpo cacchio cacchio se non ci muoviamo fallisce si si abbiamo ucciso torcual mamma mia signori ma che ci è voluto per uccidere un torcual però ne vale la pena 448 punti esperienza livello 15 si prego dimmi che si evolve madri cambia assolutamente vai l'ombre ferdinando sarebbe il ragazzo in spagnolo l'ombre quindi ragazzo ferdinando vai l'ombre ragazzo uomo assorbimento 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 a farlo male si fa pazienza un po' ci vediamo bravo bravo madri arrivederci madri è stato un onore conoscerti mia fardinando ti ha fatto assaggiare un bel po' di assorbimenti e ci vediamo vattene un po' davanti dai è stato fastidioso è il secondo questo terzo episodio si sbocca in più quando arriva in blu 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 giochi bai 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 bb si va se questo errore tasti direi che per oggi vada bene così vi invito a lasciare un like anche a commentare, a mettere la canica nella nostra nuova pagina facebook e a condividere questo video, iscrivetevi se il video vi piacciono e se vi facciamo un commento video, credo che per oggi può passare così, un saluto dagli genitori di un legacy e ci vediamo al prossimo episodio, bella ragazzi!